Tra l'impatto sicuramente la paura grossa, il terrore, quando non te l'aspetti se non sei preparato, la violenza è veramente scioccante. È stato un sabato sera di paura per una 62enne a retina, gradita alle spalle, scippata della borsa nel marciapiede alle mie spalle. Ci troviamo in via Vittorio Veneto, nella quartiera di Saione, negli ultimi giorni nuovamente al centro di episodi di degrado e criminalità. Mia madre è caduta violentemente battendo la testa sul marciapiede e ha provato a trattenere la borsa, ma è stata trascinata per un po', poi l'autore è riuscito a scappare. A fermare lo scippatore, spalleggiato da un paio di complici, è stato un cittadino che aveva assistito alla scena, un gesto coraggioso che però gli è costato quattro punti di sutura all'arcata sopracciliare. Probabilmente in un contesto molto metropolitano più ampio sarebbe stato più difficile vedere un intervento del genere, quindi per fortuna abbiamo regolato la borsa, che c'era ben poco, ma almeno i documenti, le chiavi, quindi insomma grazie. I malviventi sono comunque riusciti a darsi alla fuga. Erano italiani perché sono stati sentiti parlare anche poco prima, che sia con accento tra l'altro locale, oltre che italiano, quindi proprio qui di Arezzo. Adesso si riaccendono i riflettori sulla questione sicurezza saione. La percezione di serenità è costante, quindi di sicuro un caso dal mio punto di vista non è che fa statistica, però devo dire che la percezione non è positiva.